Buongiorno, è una vicenda sconcertante quella che arriva da Torre Annunziata in provincia di Napoli. Moglie e suocera di un affiliato alla clan di Gamorra, Gionta, hanno intascato per 15 anni il vitalizio riservato alle vittime della criminalità organizzata. A scoprirlo sono stati gli uomini del comando provinciale di Napoli della Guardia di Finanza, in debita percezione per la procura che ha disposto il sequestro preventivo per le due donne di beni per un valore di 166 mila euro. Tutto parte dalla faida di Gamorra, cosiddetta di Sant'Alessandro nell'84, un comando di fuoco di un clan. Uccise otto persone e ne ferì sette all'esterno di un circolo per pescatori sempre a Torre Annunziata. La moglie e la figlia di una delle vittime ottennero così il vitalizio previsto per i familiari, nonostante quest'ultima avesse sposato qualche anno dopo un esponente del clan Gionta, tuttora detenuto nel carcere di Secondigliano per associazione di stampo mafioso, estorsione e rapina. Le indagini della Guardia di Finanza hanno accertato che la coppia, dopo una finta separazione consensuale, nel 2017 messa in piedi per continuare a ricevere le somme, avevano avuto un'altra figlia e che la donna si reca in carcere a colloquio regolarmente con il marito. È tutto da Napoli.